Direttore sportivo e vicepresidente, chissà poi quale delle due è il ruolo più importante. Carlo Dolce, pronto questo grande Matelica? Perché l'obiettivo mi sembra interessante quest'anno. Sì, ci stiamo lavorando da tempo nella costruzione della squadra con qualche difficoltà, chiaramente perché non è mai semplice, le dinamiche nel calcio dei giocatori sono diverse, sono tante, quindi però diciamo che siamo a buon punto, l'80% della rosa è stata allestita, adesso dobbiamo solamente inserire gli ultimi tasselli che però vorrei fare con calma, ponderati senza nessuna fretta. Ecco, per ultimi tasselli colpa, sensazione? Ma, sensazione, colpi ne abbiamo già fatti, penso, giocatori importanti già sono arrivati. Per entrare nello specifico ci manca ancora un attaccante, un centrocampista grandi, e due o tre under soprattutto in porta, dove lì abbiamo avuto purtroppo la rinuncia da parte di Zeuli, che è stato il primo che avevamo preso e che seguivo già da tempo, però spero a breve di poter chiudere anche per i portieri. Veniamo al campo, quello che qui si sta realizzando sarà un campo in sintetico di ultima generazione, soprattutto manti, ce ne sono tanti sintetici, ma questo sarà particolare? Sì, è un manto, è un'evoluzione di uno degli ultimi prototipi, diciamo, che realizzava questa azienda che ha vinto la gara, che è una delle aziende leader nazionali, la Limonta di Bergamo, che insieme a un'altra azienda, la del Finosport di Teramo, stanno realizzando quest'opera. Sono delle ditte molto serie e anche affidabili dal punto di vista tecnico. Io le conosco, hanno già fatto diversi campi, anche importanti in Italia, quindi penso che ci danno un'ampia garanzia che il lavoro venga svolto bene e nei tempi stabiliti. Consegna dei lavori per il mio di settembre? Consegna dei lavori, sì, da contratto sono 60 giorni consecutivi, nella realtà spero prima, però è chiaro, dipende un po' anche dal tempo, se il tempo ci assiste, ci hanno garantito che per fine agosto ce lo consegnano. Poi, se il cameraman potrà inquadrare, là in quello spazio verranno i nuovi spogliatoi, ma saranno successivi? Sì, siamo in fase di gara per gli spogliatoi, perché abbiamo dovuto fare due gare distinte, in quanto opere diverse. Il 15 di luglio, quindi a breve, scade la presentazione delle offerte, e quindi anche lì speriamo una ditta che sia preparata e che risponda anche nell'immediato alle necessità di fare i lavori in breve tempo, che però per natura io penso che verranno consegnati non prima della fine dell'anno.